Un progetto di cui si parla da quasi dieci anni, ma che finora ha incontrato molte difficoltà. La pista ciclabile Treviso-Stiglia, sul vecchio tracciato della ferrovia, è un sogno che in parte si è già concretizzato, a Treviso con l'attraversamento del Parco del Sile, a Padova, dove praticamente rimane da risolvere solo il nodo di Campo San Piero. Più difficile è la situazione nel Vicentino, dove è previsto l'attraversamento dell'autostrada e della linea ad alta velocità, a Verona, dove parte del percorso su tratti di ferrovia non ancora formalmente dismessi da Ferrovia dello Stato, e in territorio lombardo, dove passa il tratto finale della ciclabile. A Padova, per iniziativa della provincia, si sono riuniti tutti gli enti interessati al progetto, con l'obiettivo di risolvere i nodi ancora da sciogliere. Sì, un passo in avanti, importante, perché al tavolo c'erano ferrovie dello Stato e quindi abbiamo potuto affrontare, analizzare tutti i singoli problemi che ci sono. La regione deve fare da coordinamento in questa importante opera che attraversa quattro province, e quattro province davvero importanti del suo territorio, per un'opera che, se valorizzata, può essere davvero un volano anche dal punto di vista economico, sociale e culturale del nostro territorio. Diciamo che l'incontro di oggi vuol far sì che questo non rimanga un binario morto, ma che possa essere effettivamente un percorso vivo, lungo tutto, in modo diagonale, lungo il cuore del Veneto. Consideriamo il territorio della bassa vernese un territorio importante che deve essere rilanciato, e questa infrastruttura può far sì che questo avvenga. Di conseguenza noi, tra l'altro, domani approveremo il PTCP e all'interno del PTCP c'è la rete di tutte le piste ciclabili e questa è una delle priorità. La regione, per iniziativa del Presidente Zai e del Vice Presidente Zorzato, ha da poco istituito un tavolo di lavoro proprio con l'intento di sbloccare la situazione. Avete il pallino in mano in questo momento per sbloccare la situazione? L'interesse della regione per questa arteria è fondamentale. D'altra parte taglia trasversalmente e diagonalmente il Veneto, quindi è importante dal punto di vista turistico, della valorizzazione del territorio e delle realtà che ci sono nella nostra regione. Superati gli scogli burocratici, l'accesso ai finanziamenti sembra il passaggio più semplice. I fondi europei destinati a questo obiettivo sono ancora molti e accessibili.